guardate questi qui ma non avete proprio niente da fare no 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 no, car刚 no no ragazzi non hanno niente da fare? no no, proprio zero zero insieme altri spalare per questo punto appunto aspetta non vi pago ecco che mi diverte che se non lo sai che ne facciamo queste cose attenzione attenzione riusciamo a allontanarsi oggi che mi sono gioco adesso altre 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 andiamo indietro 1 2 3 ma ma devo portare un po' da vito quella liria spaccano tutto stico uva te che non hai la bella cosa vuoi fare non provare vai vai sui sui giovani tutti sui giovani esatto eccolo 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 guardate che sticco e che ti dico adesso adesso alzo mano no va via tanto che non ti scapi vai via vai via il rovescio di testa li si silazza sono troppo veloce li faccio la doccia va bene 20 minuti